L'Inter già qualificata va sotto 3 a 0, poi incredibile rimonta col Benfica 3 a 3, incubo per i neri azzurri per l'ecco John Mario che segna una fantastica tipetta. Al quinto su Sponda Teguget al tredicesimo dopo una sanguinosa palla persa da Slani al 34' con un altro puntuale inserimento, unico su un sulto Inter con Arnatovic. Sanda Trubben, grande reazione nella ripresa con Arnatovic, 51esimo e frattesi in girata 58esimo che riaprono i giochi. E Sanchez su rigore 72esimo che filma il 3 a 3, al 95esimo palo di Barella. Per vincere il girone bisogna battere il Real Sociedad. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!